Salve a tutti i navigatori del tubo, io sono MK degli M&M Games Sono qui da solo oggi ma purtroppo ogni tanto mi tocca stare da solo Vabbè, comunque sono qui per scegliere casualmente i vincitori del Puey Che c'è stato con la collaborazione di Pokemon Generation Quindi ho qua due cappelli con altri bigliettini Quindi andiamo a scegliere il primo vincitore Visto che saranno due vincitori in questo contest Uno che vincerà Meloetta e uno che vincerà Shining Due Pokemon leggendari, molto belli, carini Ok, ho preso uno Ok, possiamo lasciare il cappello Allora Vincitore è Complimenti Complimenti Ok Si è visto? Spero di sì Comunque Monica Candela ha vinto Meloetta Complimenti Ok, teniamolo qua E poi abbiamo Da scegliere Il vincitore Dello Shining Che potresti essere tu Potrei essere io No, io non potrei mai essere però Potrebbe essere che Fosse qualcuno Ok, l'ho preso Preso Ho preso Allora Il vincitore è Simone Mix D'Agostino Che ha vinto Shining Complimenti Ok, te lo metto qua Spero che si veda Perché io non lo vedo Ok, quindi Simone e Monica Complimenti La fortuna gira per tutti Tranne che per me Ma questo Poco importa Comunque Bene L'estrazione è stata fatta Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto! Grazie Quindi Grazie per aver visto questo video Condividetelo Grazie anche la pagina Di Pokemon Generation Che ci ha dato L'opportunità Di fare questo Contest G-Way Con loro Quindi li ringrazio Ringrazio anche voi Che avete visto questo video È stato un piacere Fare un'estrazione Quindi Niente Un saluto da MK To be Continued